ben ritrovati cari amici ascoltatori per un altro dei nostri momenti approfondimento legati al mondo della medicina oggi vi parleremo di neuropsicomotricità ed osteopatia ma prima vi voglio ricordare come sempre il nostro hashtag che è storie mi raccomando cercatelo sul web sui social mettete un bel like alle nostre pagine condividete tutte le nostre storie perché sono davvero molto molto utili ed interessanti come detto andiamo a parlare di temi davvero molto interessanti lo facciamo con la dottoressa vanessa perinelli presente nei nostri studi ciao vanessa salve a tutti grazie di essere qui con noi allora vanessa tu sei una terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva oltre che osteopata quindi due diciamo campi molto vasti molto importanti che di cui si parla moltissimo soprattutto negli ultimi tempi da quando insomma si sono anche un po sparse le voci sull'effettiva utilità di certe terapie di certi trattamenti ci racconti un po quella che è stata la tua storia professionale il tuo percorso e di cosa ti occupi nello specifico oggi il mio percorso inizia nell'università d'or vergata dove mi sono laureata è stato un percorso molto impegnativo perché associato alla comunque lezioni universitarie si associava un tirocinio molto molto intenso successivamente poi mi sono approcciata dopo la laurea in vari corsi tra i quali come abbiamo già nominato l'ostopatia perché ho capito subito che il bambino in particolare ha bisogno di un approccio globale e quindi mi sono rivolta a tutti quei corsi che mi potessero dare una formazione in tal senso e la figura del neuropsicomotricista è nata sostanzialmente perché il professor Giovanni Bollea dell'università della sapienza ebbe un'intuizione favolosa all'epoca e quindi estrapolò la figura del neuropsicomotricista dai tecnici della riabilitazione capendo che il bambino doveva avere comunque una un approccio diverso rispetto alla persona adulta e quindi è nata il neuropsicomotricista ecco cosa fa questo professionista sanitario allora il neuropsicomotricista si approccia al bambino da tutti i punti di vista sia quello motorio cognitivo relazionale psicomotorio linguaggio mentre prima il bambino veniva trattato sia dal fisioterapista poi andava dall'ocopedista mentre il neuropsicomotricista con la sua formazione riesce a trattare il bambino a 360 gradi avendo quindi un occhio ampio e globale su tutte le aree di sviluppo del bambino così che il bambino non viene accompagnato nel suo sviluppo secondo degli schemi secondo degli incasellamenti ma è un approccio molto più naturale e più globale senti in che modo le due cose ovvero la psicomotricità la terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e l'osteopatia convivono insieme in un'unica figura professionale allora una seduta neuropsicomotoria diventa quasi un'opera d'arte nel senso che al di là di quello che noi studiamo delle tappe evolutive dell'età in cui queste tappe evolutive devono essere raggiunte dobbiamo sapere anche che il veicolo tramite il quale si svolge una seduta è il gioco quindi per questo bisogna avere moltissima creatività l'osteopatia si inserisce in questo contesto proprio andando a dare uno sguardo più approfondito delle dinamiche che succedono sul corpo del bambino a noi può arrivare un bambino il terapista della neuropsicomotricità lavora da bambini da zero a 18 anni quindi anche neonati, neonati che hanno comunque attraversato il canale del parto o comunque se non sono nati in maniera naturale sono stati comunque sottoposti a pressioni diverse nel taglio cesareo quindi tutte queste pressioni si possono poi ripercuotere sull'apparato osteoarticolare connettivale del bambino in primis a livello del cranio queste pressioni, questi disequilibri del cranio poi vengono riportati in tutto il corpo quindi ecco che noi troviamo non so un piedino che non è completamente in asse ma andiamo a vedere l'anca, andiamo a vedere la spalla, andiamo a vedere il cranio come sta quindi l'osteopatia aiuta tantissimo il neuropsicomotricista per non avere uno sguardo selettivo ma piuttosto uno sguardo globale a ciò che succede e gli adattamenti che il bambino ha poi nello sviluppo, nell'acquisizione di tutte le tappe motorie soprattutto quando il bambino viene verticalizzato nel senso che più andiamo avanti poi con lo sviluppo e più queste cose se non affrontate diventano sempre più evidenti quindi è importantissimo la precocità dell'intervento tant'è che con alcune mie colleghe noi ci battiamo tanto per quanto riguarda ad esempio anche la figura dell'osteopata all'interno proprio degli ospedali nei reparti di neonatologia sarebbe bene fare uno screening prima delle dimissioni del gestante con la mamma per vedere se è tutto in asse fondamentalmente sì perché poi naturalmente la mamma non ha un occhio clinico quindi a casa queste situazioni si perdono a meno che poi non si incontrano appunto pediatri molto oculati, molto attenti ma il più delle volte queste poi problematiche, disequilibri che si instauriano ripeto proprio al momento della nascita vengono portate avanti e quindi con tutte le conseguenze e gli adattamenti che ne derivano certamente, senti in che modo ti interfacci con le persone che ti vengono a chiedere un supporto con le famiglie in questo caso che ti vengono a chiedere un supporto qual è il tuo modus operandi? allora, come già un po' accennato prima è come un po' un'opera d'arte, una seduta nel senso che io lascio molto tempo all'osservazione spontanea o del neonato o del bambino che sia perché già semplicemente con questa osservazione spontanea il bambino mi racconta molte cose di lui ma soprattutto il suo corpo mi racconta molte cose di ciò che è successo anche precedentemente quindi faccio notare ai genitori ciò su cui c'è da lavorare ma anche ciò che il bambino sa fare, che ad esempio il neuropsicomotricista si differenzia da altre figure proprio per la sua valutazione che non è una valutazione su ciò che non sa fare ma più un bilancio tra ciò che non sa fare e ciò che invece sa fare quindi le abilità emergenti su cui si deve lavorare e allora Vani, sapere entrare in contatto con te magari per un consiglio, un suggerimento o perché no, proprio per una visita voglio dare l'opportunità ai nostri ascoltatori di conoscerti un po' più da vicino attraverso magari scrivendoti una mail a vanessaperinelli.it oppure chiamandoti direttamente al 349 490 0349 grazie a Vanessa Perinelli per essere stata nostra ospite